bello ragazzi sono ben wolfers e sono tornati con fifa 18 di nostro wolfers football club questa è la partita impossibile siamo contro un avversario che una media 82 la nostra è 62 giocatori tutti del campionato italiano i nostri sono i soliti nabbi perché abbiamo la squadra titolare assolutamente a pezzi e anche con pochi contratti come potremo mai resistere agli assalti di quest'uomo con i nostri uomini non lo sappiamo davvero speriamo bene ragazzi ma la vedo di un male ma di un male che mamma mia intanto stoppiamo il primo attacco e partiamo addirittura in contropiede con fagiolino magico contropiede stoppato subito va bene però intanto c'è stato se riuscissimo anche a ripartire non ci dispiacerebbe mica lo abbiamo visto attenzione fagiolino fagiolino che ti sei mangiato fagiolino che ti sei mangiato che peccato e ne mangiamo due lo vediamo passagliela attenzione che cos'è ma dai non c'è nulla ma davvero non c'era nulla secondo me sì palla fuori palla per noi stiamo incredibilmente attaccando noi ragazzi sottolineano incredibilmente uno vedi perché l'hai fatto girare bene ma non riusciva a tirare che peccato caccio d'angolo però io chiamerei un uomo fuori che tra l'altro non è seguito da nessuno attenzione attenzione guadagniamo un altro caccio d'angolo farei la stessa cosa però questa volta la palla la butterei dentro non lo vede nessuno e invece l'hanno visto tutti ma l'hanno visto tutti illuminato di giorno proprio udagliela eh ma non va però la palla è ancora nostra eh mamma mia che spinte che abbiamo ricevuto attenzione qua attenzione qua lo blocchiamo solo per un attimo sottolineo solo per un attimo e poi definitivamente meno male non la passiamo perché ha la cosa più ovvia da fare bravo romagna lei sì che non è prevedibile grande romagna che dà anche il suo contributo alla manovra offensiva lo vediamo fagiolino che ti fai recuperare fagiolino passaglielo eh ma qua ci ha visto giusto ragazzi incredibilmente la partita la stiamo facendo noi eh dai che lo rivede vai fagiolino eh si è stato anticipato bene però continuiamo a essere offensivi che come piace a noi del resto girati benissimo non sa che fare vai fagiolino eh non mi tiri fagiolino non mi tiri fagiolino sei lento fagiolino sei lento siamo attentissimi in difesa vai fagiolino altra occasione per te fagiolino ma non mi tira ma non mi tira fagiolino lei non mi tira che fastidio fagiolino non abbiamo più neanche rizzato perché nel frattempo il suo contratto è scaduto lo vediamo fagiolino fuori gioco questa volta c'era me ne ero accorto non ero completamente convinto di essere in regola resiste un po troppo resiste eh diamola così subito bravissimi ottimo fagiolino che lo vede vai harry potter facci la magia harry potter dai che l'hai visto no l'ha toccata che peccato che peccato ragazzi per la mole di gioco costruita stiamo diciamo che il risultato ci sta strettino lo vediamo eh ma lui l'ha visto meglio ancora uh erraccio suo erraccio suo fagiolino di nuovo hai modo di dire la tua e questa volta per favore piazzaglielo fagiolino niente da fare ragazzi meritiamo il vantaggio noi meritiamo il vantaggio noi non mi interessa nulla dalla di là dai che l'hai visto è qui fagiolino però non puoi farti recuperare sempre così bravo fagiolino piazzagliela era il tiro più lento del mondo era il tiro più lento del mondo quadrato quadrato non lo fermiamo mai ragazzi quadrato non lo fermiamo mai a meno che noi andiamo in scivolata in quel caso si lo fermiamo dagli la chiesa bravissimo ultimo contropiede del primo tempo lo vediamo tira un volo ma che è tutta sta potenza cos'è tutta questa potenza 0 a 0 a fine primo tempo ma ragazzi è stato un dominio nonostante l'abilità almeno in stelle sulla carta dell'altra squadra 5 tiri di cui uno solo importa ed è quella la nostra colpa assolutamente quella cerchiamo di essere più concreti ragazzi perché ce la meritiamo noi assolutamente ce la meritiamo noi vai fagiolino che l'hai visto scatta bene strizzolo strizzolo tu sei un anno cattivo dimostralo niente da fare la pare il portiere ma almeno ha centrato la porta almeno ha centrato la porta bravo strizzolo così ci piaci era meglio la sua terra qua ho sbagliato scelta probabilmente questa volta vogliamo buttare in area qua vediamo come la va e non la va semplice molto di più questo taccagliela dagliela subito vai fagiolino girati vai fagiolino girati fagioli servilo servilo piazza glielo ma in bocca al portiere ma davvero ragazzi così no però ragazzi così no attenzione qua fingiamo di voler andare sull'esterno e gli abbiamo regalato gli abbiamo assolutamente regalato per fortuna poi ci mettiamo benissimo con il corpo e riusciamo a riprenderla ma quante occasioni signori dagli la chiesa bravo chiesa piazza la tua chiesa niente da fare neanche chiesa la piazza è stregata quella porta attenzione qui attenzione attenzione brutta lo sapevo ragazzi zeko al primo tentativo al primo tentativo zeko la piazza ma io non il calcio è crudele ragazzi calcio è davvero crudele vero lui c'è un attaccante 84 il mio sarà sotto il 60 per carità ma il calcio è davvero uno sport crudele ma siccome la meritiamo noi non ci arrendiamo assolutamente cerchiamo subito subito di recuperare questa partita perché appunto la meritiamo noi qui ce ne beviamo uno ce ne beviamo due ce ne beviamo tre buttacelo mamma mia l'ultimo difensore ci ha fregato l'ultimo difensore ci ha fregato che peccato attenzione che qua sta partendo quadradito quadradino non sappiamo più ballare non sappiamo e attenzione qui fagiolino aveva fatto una cosa bellissima seguita da una cosa orrenda del nostro difensore qui riusciamo a metterci una pezza per favore possiamo niente da fare ragazzi vince tutti i contrasti vince portiere pensaci tu per favore perché qua la situazione è tragica eh qua la situazione è tragica stiamo perdendo una partita che avevamo dominato vai così strizzolo grandissimo qui riusciamo a penetrarlo e adesso lo devi piazzare e adesso per favore mamma mia ragazzi fagiolina alla fine la butta dentro la fagiolina la butta dentro e ce l'abbiamo fatta quanta sofferenza una a uno ma non è finita pecchio questa partita la voglio vincere la voglio vincere assolutamente dove vai tu eh brutti 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 questi interventi scivolata ragazzi sta resistendo a tutto ma non è possibile va subito in vantaggio con manzukic ma non è possibile ragazzi ha resistito a tutto capisco la differenza di livello dei giocatori ma ragazzi mamma mia a tutto ha resistito guardate qua spallate contro spallate e la riesce di nuovo a piazzare tutto da capo ragazzi dobbiamo assolutamente fargli due gol dico due gol perché davvero io questa qui la voglio vincere a tutti i costi qui riusciamo con fagiolino magico a fare un'azione bella e lui qui ha fatto un'entrataccia che però è rimasta impunita non mi sembra giusto non mi sembra giusto per nulla palla nostra e purtroppo è così ragazzi quando si gioca con i campioni bisogna stare attenti a tutto perché è un attimo e ti purgano è davvero un attimo avete visto ok palla per noi ci giriamo benissimo dagliela tiracelo ma che tiro è ma che tiro è ma che tiro è però sbagliato lo vediamo eh però siamo lenti a passarla siamo lenti a passarla qui invece siamo stati velocissimi piazzalo adesso ragazzi che differenza è sto portiere rispetto al nostro che differenza c'è stata daglielo che lo vedi dalla fagiolino fagiolino è un'occasione fagiolino rigore assolutamente assolutamente rigore che partita ragazzi che partita barzagli lei ha sbagliato mi dispiace si giallo tanto rispetto per lei ma questo è stato un erroraccio che non doveva fare con un giocatore di un'altra categoria che possiamo tirare solo con chiesa tirerei una botta così e ragazzi chiesa ci segna il 2 a 2 settantasettesimo abbiamo 13 minuti più recupero per riuscire a sognare una vittoria che in realtà ci meritiamo tantissimo tantissimo ce la meritiamo tu non sfondi di nuovo perché tu di nuovo non sfondi vai fagiolino che sei cattivissimo vai fagiolino che sei cattivissimo ottimo così palla recuperata gli aridai per favore a fagiolino niente da fare riparte in quarta con gli uomini che c'ha perché sa che può permetterselo giustamente ammunizione per ragazzi giustissima ho dovuto fermarlo ho dovuto spendere il fallo perché mi stava partendo male e quando mi partono male loro è un problema dalla qui attenzione non posso fare di nuovo fallo con ragazzi purtroppo lui mi sta andando di nuovo in penetrazione centrale attenzione ragazzi attenzione ragazzi questa volta il partito fa buona guardia ed è solo calcio d'angolo abbiamo rischiato tantissimo quando affondano pb centrali è un problema è un grosso grosso problema attenzione al calcio d'angolo adesso lui a tutti gli uomini per farci male avevo tutti sottolineo tutti quasi gira ma non riesce a concretizzare un tiro di nuovo calcio d'angolo signori che fatica questa partita che fatica dove la butti la butti qui ci siamo noi ci siamo noi ragazzi ci siamo noi io qui però non posso far partire subito il contropiede come faccio lo posso far partire adesso no beh rischio vedete rischio tantissimo chiesa lei è libero chiesa non lo sta marcando nessuno chiesa la dia a ragazzi ragazzi la controlli meglio bravissimo ragazzi dai che l'hai visto dai che l'hai visto fagiolino fagiolino hai tirato alle stelle che cos'era quel tiro fagiolino ma che peccato però non era male non era male per nulla 86esimo minuto partite sempre combattutissima sempre sempre combattutissima ottimo ragazzi bellissima questa palla recuperata ottima anche questa palla recuperata e ma poi lui riesce a fare un'ottima ottima ottima guardia cerchiamo di fargli perdere l'equilibrio non ci riusciamo attenzione affonda sempre come il burro ma non è possibile benatia parte dalla difesa al novantesimo segna lui ragazzi quanto è ingiusto il calcio quanto è ingiusto non la meritava mai nella vita questa partita rigiocandola penso altre dieci volte non avrebbe vinta mica tante tante occasioni e siamo sotto pazzesco pazzesco ragazzi dagliela bravissimo resisti resisti continua a resistere però bravo così girati non sappiamo a chi darla e tu chi sei e tu chi sei non ti ho mai visto prima davvero attenzione no che brutto controllo che brutto controllo signori qua temo proprio che sia finita possiamo recuperare la palla grazie portiere riscovo è che peccato ragazzi una sconfitta immeritata abbiamo dominato la partita lui l'ha vinta soltanto per la differenza degli uomini in campo fosse l'ultimo gol potevo fare qualcosa è vero ma i primi due li ha segnati soltanto perché aveva esattamente quegli uomini è davvero un peccato io sono curioso di vedere le statistiche perché sono davvero guardate perché uomini che c'aveva ragazzi c'è è una differenza assurda assurda la differenza ci prendiamo questi 450 creati con tanta tanta tristezza perché sono stati veramente veramente bravi pazienza ragazzi ci rifaremo io spero che questo video intenso vi sia piaciuto se così è lasciato un like commentate condividete ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno vi ricordo sono i live anche su twitch dal lunedì al venerdì alle 21 e 30 grazie e alla prossima ciao